Al Porto Turistico Marina di Pescara esplode la primavera con la 43esima edizione della Mostra del Fiore Florviva da venerdì 12 a domenica 14 aprile. Ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, dall'ARFA, l'Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese, e da ASSO Flora, Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi, l'avento si avvale della collaborazione della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara, del Porto Turistico Marina di Pescara e di EAFA, Ateneo Europeo di Arte Floreale, scuola di formazione internazionale con sede a Bugnara. Io sono in compagnia dei protagonisti di questa edizione 2019 di Mostra del Fiore Florviva e andrei subito da Lido Legnini, che è il presidente avvicario della Camera di Commercio di Chieti Pescara, che può in questo caso spiegarci questa fortunata intuizione di unire la Mostra del Fiore e Florviva, che ormai da otto anni praticamente si tengono in un unico evento attesissimo qui al Porto Turistico Marina di Pescara. Sì, otto anni fa c'è stata l'unione di queste due manifestazioni, con la Mostra del Fiore che partiva dalla 43esima edizione, quindi manifestazione importante. L'unione di queste due manifestazioni ci porta oggi ad avere oltre 200 espositori, quindi una delle manifestazioni di settore più importanti del centro-sud, c'è molta dinamicità, tanti colori, si apre la stagione di fatto del Marina di Pescara, del padiglione Becci. Eremo Matricardi, presidente di Arfa. Quali sono i numeri di questa edizione? Quest'anno siamo 213 aziende, aziende dove circa 150 sono della regione Abruzzo e il resto vengono da più regioni. Sono 15 regioni che quest'anno partecipano a questo evento, evento che raggruppa non soltanto il florovivaismo, non soltanto piante e fiori, ma tutto ciò che sono le attrezzature per il giardinaggio, per il tempo libero, per l'arredo di casa. E oltre alla Camera di Commercio di Chieti Pescara e all'Arfa, tra i promotori di questo evento c'è anche naturalmente Assoflora. Noi abbiamo il presidente Guido Caravaggio. La produzione vivaistica abruzzese è un settore importante che sta crescendo e si sta fermando. È un settore che ha la base a importanti investimenti per poter arrivare a delle produzioni che riescono però ad essere concorrenziali con il mercato nazionale ed europeo. A tagliare il nastro e inaugurare la mostra c'era il governatore Marco Marsilio insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Presidente, ma il suo rapporto con le piante qual è? Non oso dire di avere un pollice verde perché sarei presuntuoso, però diciamo che una pianta dentro casa non manca mai.